Ho preso 6 laurea di 81 anni, di contrasto è successo il primo caso, guardate che è molto raro, di docente di ruolo che è stato licenziato a Montebelluna per scarso rendimento scolastico, incapacità didattica. È il primo caso in Italia, uno dei primissimi casi in Italia, un docente di ruolo che è stato lasciato a casa in quanto non era in grado di insegnare. Cosa insegnavate, ma te li insegnavate? Non lo so, neanche lui lo sapevo esattamente. C'è anche una professoressa di Milano, Leonardo da Vinci, che ha appeso un foglio in una bacheca degli studenti dicendo che le relazioni gay sono innaturali, forse Don Danilo apprezzerà molto questa. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un altro video perché quando Renzi cominciava a parlare di scuola abbiamo voluto capire se il corpo di insegnanti è preparato oppure no. Vediamo che cosa c'è in una risposta e vediamo se abbiamo trovato un professore disposto a risponderci. Una delle priorità del nuovo governo Renzi, come dichiarato la stessa Presidente del Consiglio, è la messa in sicurezza delle scuole italiane e la rivalutazione, la riqualificazione del corpo insegnante. Noi siamo proprio qui davanti a una scuola omnicomprensiva, l'Istituto Omnicomprensivo di Milano, che appunto ha dei lavori, un corso per parlare con qualche insegnante che speriamo di incontrare. Ma prima vogliamo capire dagli italiani se hanno fiducia nella preparazione degli insegnanti oppure no. A suo parere gli insegnanti italiani sono preparati? Sì. No. Come avete potuto verificare al vostro approfondito sondaggio, condotto peraltro su un campione significativo, il 50% degli italiani pensano che gli insegnanti italiani siano preparati, l'altro 50% pensa invece che gli insegnanti italiani non siano preparati. Adesso cerchiamo di incontrare uno di questi insegnanti. Lei è un'insegnante? Sì, lei mi senti il titolo. Stiamo facendo un'inchiesta per conoscere la vita e il lavoro degli insegnanti delle scuole pubbliche. Cosa fate? Qualche domande? Se non speriamo troppo tempo, perché sa, o non la buca, o non vorrei perdere lo tempo con lei, insomma. Quindi, va bene, c'è una seconda domanda. E correggere i compiti in classe? Adesso, quello che devo fare, sicuramente sono affari miei. Devo fare quello che devo fare, mentre fare quello che devo fare, ha molto tempo, insomma. Posso chiedere cosa insegni? Italiano, insegno italiano, Dante, Leopardi, Foscolo, insomma, 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 tante, diciamo che, devo processare che eriamo solo fino all'inferno, però, eh? D'altra parte, se anche lui, anzi, che scrive il purgatorio, mi pare a dire se fosse affermato all'inferno, a noi non cambiava niente, a noi faceva meno fatica, adattore, eravamo solo fino all'inferno, quindi, insomma, arrivare solo fino all'inferno. E già, all'interno, è un po' curioso, no? Invece Leopardi? Leopardi, sì, come vedete, Leopardi, con lo sfigato, con la gobba, non trova nessuno che gliela dava, e quindi, diciamo, è morto. E ragazze, che messaggio arriva? Che, per esempio, se hai la gobba, e non trova nessuno che te la dà, non devi scrivere poesie, poesie. Questo è il messaggio, questo è Foscolo. Foscolo, la cosa più allegra che ha scritto è stato i sepolcri, che, a volte, più che il cinema italiano, diciamo che il cinema è l'antologia della sfiga. Poi, però, devo dire che, diciamo, è arrivato un po' al novecento, il secolo importante, di che autore del novecento riesce a parlare? Cesare Pavese, per esempio, quello che si è suicidato, quello che è primo Levi, quello che si è portato giù dalle scarne, insomma, da me. Gli studenti? Gli studenti, beh, una mano si gratta, e quell'altra invece, a gioco un nome di telefonini, no? Lei? Io, non so cosa devo fare, io non posso fare niente, perché se gli do un brutto voto, vanno in casa e vengono i genitori la metà, se gli iscritto, vanno in casa e vengono i genitori a lamentarsi, diciamo, avrei anche pensato di aspettarli fuori alla fine delle lezioni e dare una fraccata delineata, ma poi a qualche si riveli, quindi, diciamo, che no, qua vanno avanti, così è bisogno. Posso chiedere se è soddisfatto del suo stipendio? Beh, diciamo, mediamente soddisfatto. Con quello che guadagno riesco a fare la spesa una volta alla settimana, poi vado al cinema, non ho proprio gli 15 giorni, e una volta a me sono andata a puttana, puttana, sì. Grazie. Grazie.